L'Ucignano è un comune italiano di 3546 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana. Recentemente è entrato a far parte dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Con la sua forma elittica e strade anulari concentriche, il borgo fortificato di L'Ucignano costituisce uno dei più interessanti esempi di urbanistica medievale, arrivata fino ai giorni nostri. Posto in una zona di notevole importanza strategica, fece della cittadina un crocevia tra le città di Arezzo, Siena e Perugia. In effetti le tre città si contesero ripetutamente l'Ucignano che, dopo un periodo di libero comune, fu conquistato prima da Arezzo e poi da Perugia, per il dominio della Val di Chiana. La collegiata di San Michele Arcangelo, costruita su disegno da Orazio Porta nel XVI secolo, a forma di croce latina. Vi sono custodite opere di artisti del XVI e del XVII secolo, tra i quali Giacinto Gimignani e Matteo Rosselli, nonché un pregevole altare barocco in marmo disegnato da Andrea Pozzo. Chiesa di San Francesco La chiesa costituisce uno dei più rilevanti esempi di architettura gotica francescana e presenta un impianto basilicale a croce egizia. La costruzione della chiesa fu probabilmente iniziata nel 1248. La storia di San Francesco Grazie a tutti. Grazie a tutti.